Giovanni Ciacci Giovanni Ciacci giudica Ivan Zazzaroni di Ballando Giovanni Ciacci non riesce a digerire le parole pronunciate da Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle nella puntata di sabato scorso. Intervistato alla Zanzara su Radio 24, il programma condotto di Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo, l'esperto di Luxi è tolto altri sassolini dalle scarpe. Giovanni Ciacci. Negli ultimi giorni la polemica rimbalza su tutti i social, dopo che Ivan Zazzaroni ha rifiutato di valutare l'esibizione di Ciacci Todaro a Ballando con le stelle, perché esteticamente sbagliato. Il giurato di Milli Carlucci ha spiegato più volte che è stato costretto a dare zero perché non hanno ballato in coppia ma staccati, quando saranno coppia li giudicherò. Ballando con le stelle. Giovanni Ciacci ancora contro Zazzaroni Il giudice di Ballando 13 Ivan Zazzaroni è stato etichettato come omofobo dal mondo della rete. Le sue parole, infatti, hanno fatto infiammare gli utenti sui vari social. Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Ciacci non crede che Zazzaroni sia realmente omofobo ma si è detto molto dispiaciuto per la madre che, dopo la puntata, gli ha mandato un messaggio di vicinanza. Intanto, Zazzaroni ha trovato l'appoggio di Milli Carlucci che gli ha dato ragione per quanto espresso in puntata. Non è ancora pronta a vedere due persone dello stesso sesso in un ballo ravvicinato. Ospite alla Zanzara su Radio 24, Giovanni Ciacci ha lanciato una frecciatina a Caterina Balivo, confessando di aver perso 23 chili grazie al ballo, e dove non è riuscita lei è riuscita la Carlucci. Poi ha rivelato altri dettagli sul suo futuro matrimonio con un principe echiope trentenne. Dopo aver registrato un programma, l'esperto di Luke, ha incontrato questo principe, per caso che ha iniziato a fargli la corte. Questa polemica verrà chiarita nella prossima puntata del Talent di Danza di R.A.I. . .